...pronterò il Linkway dopo questa missione. Non credo. Sub-Zero ha sconfitto Cyrax e il Cyborg Jabba. I Jabba si stavano facendo più forti, ma ora sono spariti. Io... Sub-Zero? Ma... Eri morto? Non sono il Sub-Zero che credete. Era mio fratello. Tuo... fratello? Sono qui solo per conoscere il suo fatto. Tuo fratello Bianna è morto. Chi l'ha ucciso si chiamava Scorpio. È vero, è stato Scorpio. Prova il Colosseo. È la chiudere. Mi sa che è arrivato qualcuno, ragazzi. Attormentato. Ha fatto il nostro processo di rigenerazione. Hermak! Prese. No, 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 no. Che sta succedendo? Ditemelo, ragazzi. Hermak, che vuole fare alle braccia di Jax? Gliela spezza. No! Gliela spezzate! Jax! Resisti, Jax. Non arredmi. Avevo a pezzi, anche te. Non se lo faccio prima, io.